Allora, anzitutto grazie a Cesare che mi ha invitato e grazie a tutti voi che avete deciso di passare una serata invece di stare a casa perché piove, eccetera, eccetera, così andiamo in giro nell'universo e vediamo cosa troviamo. Allora, solo due parole di introduzione. Sono venuto molte volte a Tradate perché ero, e credo di essere ancora, uno dei sostenitori dell'osservatore FOM13 che mi ha dato molte soddisfazioni nel passato. Quindi tornare a Tradate per me è un piacere. Detto questo, a cena abbiamo deciso di scambiare l'ordine delle presentazioni. Quindi invece di partire subito sugli extraterrestri, che è un discorsetto che merita prima di tutto di essere preparato adeguatamente, vi parlerò invece di un problema pratico molto attuale che è quello della Luna, e cioè in particolare della faccia dall'altra parte della Luna. Non mi piace dire faccia oscura perché è una stupidaggine in quanto la Luna gira intorno alla Terra e quindi quando si trova verso il Sole ovviamente non oscura proprio per niente. Preferisco dire la faccia lontana, quella che sta lontano da noi, cioè dall'altra parte, e la faccia vicina, quella che sta vicino a noi. D'accordo? In inglese naturalmente Near Side, quella che è vicino a noi, e Far Side, quella che è lontana da noi. Una domanda tecnica. Mi sentite tutti? Volete che aumenti il volume, no? Va bene così? Perfetto, grazie. Allora, cominciamo da questa prima parte della chiacchierata che riguarda la Luna. Dunque, come vi hanno detto, io sono appena tornato dal congresso astronautico internazionale, International Astronautical Congress, che si è svolto a Washington. Perché proprio a Washington? Ma ovviamente perché c'è il cinquantenario dello sbarco americano sulla Luna. E quindi gli americani ci tenevano a fare bella figura, no? di celebrare il cinquantenario. E così ci siamo ritrovati, diciamo, tutti quelli che nel mondo, o per un verso o per l'altro, hanno a che fare con l'astronautica. Ci siamo ritrovati a Washington. Ora, in questo grande congresso, si parla di circa 6.000 persone da tutto il mondo, c'è un angolino dedicato al SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, cioè quel gruppo, adesso già abbastanza numeroso, ma una volta non tanto numeroso, di astronomi, che sono poi in realtà dei radioastronomi, che cercano di captare eventuali segnali radio o anche eventuali segnali laser, cioè nell'ottico, che arrivino a noi da qualcun altro, non sappiamo di più, da qualche parte o nella nostra galassia o addirittura in altre galassie. Noi non sappiamo niente. E tanto per essere chiaro, fin dal primo momento, guardate che noi non abbiamo scoperto niente. perché se avessimo scoperto qualcosa, una notizia di questo genere, con internet, eccetera, faceva il giro del mondo nel giro di secondi. Bene, del SETI vi parlo nella seconda parte. Adesso veniamo al discorso della Luna. Perché la Luna è così importante? Il motivo è semplicissimo. Perché voi sapete tutti che la Luna gira intorno alla Terra mostrando sempre la stessa faccia rivolta alla Terra e quindi per esclusione l'altra faccia sta sempre dall'altra parte. Perché avviene questo? Perché dentro la Luna non ha una densità di materia uniforme, ma nella parte che si rivolge verso la Terra c'è più massa, cioè c'è più pietre, scusate, la metto proprio plebeamente, ma lo spirito è quello. Cioè c'è qualcosa di più pesante nella parte rivolta verso la Terra che non nell'altra. Ora, questo è importante perché noi crediamo, gli astrofisici crediamo, che quello che è successo nella creazione della Luna è stato questo. il Sistema Solare si è formato circa 4,5 miliardi di anni fa. Poi c'è stato un bel po' fino a 3,8 miliardi di anni fa, cioè da 4,5 a 3,8. Naturalmente i numeri sono a scalare perché ci stiamo avvicinando a zero. Che è adesso. E a quell'epoca c'era la Terra già abbastanza ben formata, perché la Terra appunto si è formata circa 4,5 miliardi di anni fa. E poi c'erano dei bianettoni, ce n'era uno, tipo Marte, tanto per dare un'idea vaga, i quali giravano. Naturalmente giravano non su orbite circolari, come succede adesso, ma giravano su orbite altamente ellittiche. Perché? Semplicissimo. Perché c'è un teorema, scusate, io sono un matematico, fisico-matematico, c'è un teorema di fisica-matematica che dice che se tu hai un pianeta che gira intorno ad una stella, l'orbita di minima energia è il cerchio. Cioè il cerchio col centro nella stella. Ora, è chiaro che di energia se ne perde sempre perché ci sono gli attriti, ci sono storie varie, quindi anche se all'inizio l'orbita è ellittica, però col passare di milioni di anni, se non addirittura miliardi di anni, l'orbita tende a diventare circolare. Ed è quello che succede adesso. Praticamente tutte le orbite del Sistema Solare sono quasi dei cerchi, d'accordo? Adesso, tornando al discorso della Luna, c'era questo pianetone, chiamiamolo Marte 2, dai, così ci capiamo al volo senza tante storie. C'era, sì, come si chiama? Teia. Teia, grazie. La mamma di? La mamma di? Selene. Selene. Come la fai difficile, scusate. Il suggerimento di Dario Kubler, vi ringrazio. Cioè, ringrazio lui e voi che beccate tutto quello che noi vi diciamo. Comunque, insomma, il discorso è questo. Questa teia è andata a sbattere contro la Luna. Però, qui bisogna mettere in chiaro che lo scontro, poso il microfono un attimo, non è stato uno scontro così, cioè testa contro testa. È stato invece uno scontro di fianco che in inglese si dice Wham, V-W-H-A-M, Big Wham, è, diciamo, lo sfregamento, ecco, diciamola così più chiara, di teia contro la Terra. Allora, quando questo è avvenuto, c'è stato un trasferimento di massa, cioè di materia, insomma, dal più piccolo verso il più grande. Siccome teia era più piccolo della Terra, grosso modo come Marte, in questo passaggio di materia la Terra si è arricchita ancora di più di materia, mentre l'altra, povera teia, è diventata solo più la Luna. Capito come è nata la Luna? Grosso modo. Per inciso, se voi fate, se avete il piacere di fare i calcoli di matematica, andate a calcolarvi la densità di tutti i pianeti del Sistema Solare. Cioè, densità è massa diviso volume, no? Quindi fate la massa diviso quattro terzi pi greco e re tre, che è il volume della sfera, e fate il conto. E lì vi salta fuori una sorpresa, che fra tutti i pianeti del Sistema Solare la Terra è la più densa di tutte. Allora, se mi lasciate usare un linguaggio non scientifico, ma facile, insomma, noi siamo piccoli, ma siamo robusti. Cioè, non è un caso che l'umanità e tutto il resto si sia sviluppato qui, perché qui abbiamo una forza di attrazione gravitazionale tale da trattenere tutti i gas che altrimenti si sarebbero spersi nello spazio vuoto, come probabilmente è successo per Marte, eccetera. D'accordo il discorso? Va bene, andiamo avanti. Allora, quando c'è stato questo sfregamento, c'è stato il trasferimento di massa. Naturalmente, proprio perché c'è stato uno sfregamento, quella povera luna girava su se stessa come una trottola, no? Si dice Tuspini in inglese. Girava. Ma ci sono tanti attriti in questo movimento, no? E quindi, nell'arco enorme di tempo di 3,8 miliardi di anni che sono passati dallo sfregamento ad oggi, la povera Terra ha finito di stabilizzarsi praticamente. e quindi, di fatto, oggi noi vediamo quasi sempre la stessa faccia. La faccia è sempre la stessa, ma la vediamo un pochino mossa, cioè sono le librazioni lunari che sono il residuo di quello che era successo allora. Chiaro? Va bene. Detto questo, adesso arriviamo al motivo per cui la Luna è così importante. Perché la civiltà umana sulla Terra si è sviluppata, lo sappiamo, diciamo, dopo il 1864, non è che prima non ci fosse, ma nel 1864 lo scozzese, non inglese, lo scozzese James Clerk Maxwell scopre le equazioni di Maxwell che sono le equazioni fondamentali che spiegano l'interlacciamento dei due campi elettrico e magnetico. e quindi utilizzando queste equazioni lui ha dimostrato che dovevano esserci delle soluzioni sinusoidali, cioè il campo elettrico faceva così e il campo magnetico faceva così, ma in modo tale che alla fine tutto quanto il complesso si spostava in avanti con la velocità della luce. Questa roba è ciò che si chiama le onde elettromagnetiche. D'accordo? Quindi le onde elettromagnetiche sono state scoperte non in laboratorio, ovviamente non si vedono, qui è tutto pieno di onde elettromagnetiche, ma nessuno vede niente, è profondo il discorso, sono state scoperte prima sulla carta da Maxwell, però lui non è riuscito, poveretto, a verificare in laboratorio se era vero o no, ed è morto con questo dubbio anche perché è morto molto giovane. Morto lui, il tedesco Heinrich Hertz, da cui l'unità di frequenza, l'Hertz, H-E-R-T-Z, è riuscito a dimostrare in laboratorio che era proprio così, cioè non era un insieme di formule matematiche scritte su una lavagna, era la realtà fisica, e successivamente ancora verso la fine dell'Ottocento Guglielmo Marconi e poi tutti quelli che sono venuti dopo hanno utilizzato le onde per la telegrafia senza fili, dicevano allora, cioè trasmissione a distanza senza nessun cavo elettrico. Allora, questo è come sono andate le cose, quindi grosso modo la civiltà umana a partire diciamo da Marconi praticamente fino ad oggi, cioè da 120 anni fa ad oggi, ha prodotto una quantità crescente di onde elettromagnetiche e le onde elettromagnetiche si propagano in tutte le direzioni, naturalmente. Allora, cosa succede? Succede che se voi, poveri diavoli, dovete fare come noi, poveri diavoli, cioè i radioastronomi, cioè utilizzare delle antenne sulla Terra per andare a beccare dei segnali debolissimi, abbiamo la vita dura perché ci sono tutte queste interferenze radio che ci oscurano le macchine, capito il discorso, ma c'è un'eccezione. Tu hai chiesto di... Sì, ma io ho chiesto di spegnere, sì, sì. Sì, però se mettevo un po' di luce ti vediamo... Eh, vabbè, dopo, vabbè, giusterò la cravatta e mi faccio vedere meglio. Così non funziona. Così non funziona. No, ma aspetta, dai, che devo spiegare queste cose, andiamo avanti, poi fate quello che volete, per me va bene, ma insomma... Allora, il discorso è questo, che la Terra, da Marconi in giù, ha prodotto una quantità di onde elettromagnetiche sempre crescente. In particolare, le più potenti di tutti sono i radar, i radar militari, perché lo spirito del radar è che io non so dove sono gli aerei nemici, punto questo, l'onda arriva là, picchia contro il metallo dell'aereo, torna indietro e da quello che torna indietro io capisco che lì c'è un aereo. Questo è lo spirito del discorso. Bene? Allora, in conclusione, intorno alla Terra c'è questa valanga di radiazione che va avanti da 120 anni. Cioè, detto esattamente la stessa cosa ma con uno spirito diverso, se voi prendete una sfera di raggio 120 anni luce intorno alla Terra, in quella sfera lì ci sono le nostre onde, a cominciare da Marconi in giù. Ora, è vero che l'intensità delle onde decresce con l'inverso del quadrato della distanza, quindi sono onde sempre più deboli da captare con qualunque strumento. Ma questo non vuol dire niente, se in quella sfera lì di 120 anni luce di raggio c'è anche una sola civiltà come noi o addirittura più avanzata di noi, cioè con attrezzature ancora più precise, questi sicuramente sanno che noi ci siamo perché beccano le nostre onde, più di così si muore. Allora, questo è il panorama, è anche l'origine del SETI in effetti, perché il SETI, il prossimo passo è quello di capovolgere il discorso, come quelli là possano beccare noi perché beccano le nostre onde elettromagnetiche, così noi potremmo, uso il condizionale, potremmo beccare i loro segnali e questo è l'inizio del SETI, d'accordo? Torniamo ancora sulla Luna perché finora mi sono girato attorno ma non ho detto il punto cruciale, il punto cruciale è che siccome la Luna ha una bella palla asferica, c'è un cono di silenzio radio dall'altra parte della Luna che si estende nello spazio. Questo è ciò che noi miserabili astronomi sogniamo di poter utilizzare per trovare dei segnali debolissimi che altrimenti qui non riusciamo a beccare perché ci sono dei disturbi radio da tutte le parti. Chiaro? Allora adesso scusate ma devo dirvi due parole su chi sono io e per chi mi sono occupato di questa roba a partire dal 1995. Allora la faccenda è questa. Io faccio parte dell'Accademia Internazionale di Astronautica International Academy of Astronautics che ha sede a Parigi e frequentando i colleghi ho trovato un mio diciamo così un maestro francese che era Jean Hedman poi vi faccio vedere la foto il quale mi disse senti ma noi dobbiamo fare qualcosa qui per cercare di salvare questo silenzio radio perché è preziosissimo per fare delle ricerche di segnali molto deboli non c'è nessun altro posto intorno alla Terra che ha questa particolarità di essere silenzioso dal punto di vista radio va bene allora siccome eravamo tutti e due membri dell'Accademia Internazionale lui ha preso in mano l'idea l'iniziativa e ha promosso quello che nel gergo dell'Accademia si chiama un Cosmic Study cioè uno studio teorico basato sulla matematica e la fisica per mettere all'attenzione del mondo questa proprietà unica che ha la faccia dall'altra parte ora scusate ma io vi dico chiaramente come sono andate le cose io ero giovane e quando uno è giovane ingenuo non si rende conto delle cose mentre gli anziani le capiscono più a fondo insomma un certo punto nel 99 mi dice senti io ho bisogno di nominare un vice vuoi farlo tu? e io mi dico ma vabbè cosa devo fare se faccio il tuo vice? risposta ah non devi fare niente faccio tutto io lui era una persona di spirito e io sono stato una persona che non ha capito la vera situazione perché purtroppo lui era sapeva di avere il cancro e nel giro di meno di un anno è morto nell'anno 2000 nel luglio del 2000 a quel punto io sono stato contattato dall'Accademia di Estonatica e mi hanno detto senti il tuo capo è morto vai avanti tu e io ho accettato quindi da vent'anni a questa parte io guido questa ricerca per capire cosa diavolo fare per salvare il silenzio radio che c'è dall'altra parte il fatto è che una cosa è scrivere dei bellissimi lavori scientifici un'altra cosa è sbattere il naso contro la politica ora la situazione è questa che d'accordo con i vertici dell'Accademia di Estonatica già nell'anno 2010 era il 10 di giugno mi hanno chiesto io l'ho fatto di andare a presentare questo discorso alle Nazioni Unite qui ci vanno due parole di spiegazione quando la gente sente la parola Nazioni Unite naturalmente pensa a quello che vede nel telegiornale cioè il Consiglio di Sicurezza New York le guerre purtroppo è vero ma è anche vero che le Nazioni Unite hanno anche delle altre agenzie che non si occupano di guerre e sono dislocate in posti diversi da New York per esempio a Roma c'è la FAO lo sapete Food and Agriculture Organization cioè l'organizzazione che si cerca di procurare del cibo per i paesi in via di sviluppo e questa è a Roma poi a Parigi c'è l'UNESCO United Nations Cultural Whatever e poi a Vienna ce ne sono due una è l'agenzia dei problemi atomici potete immaginare voi che difficile compitano questo cito solo El Baraday che aveva avuto il premio Nobel per la pace perché si occupava di impedire lo sviluppo di armi atomiche da altre parti e poi oltre a questa c'è quella che interessava a noi cioè il COPOS Committee on the Peaceful Uses of Outer Space cioè il Comitato per l'utilizzo pacifico dello spazio esterno esterno alla Terra ovviamente quindi la Luna ricade lì e fu così che nel 2010 poi vi faccio vedere le slide ma adesso vi trasmetto tutto il messaggio nella sostanza del discorso fu così nel 2010 anno 10 di giugno vado là con tutti i crismi e parlo alle Nazioni Unite di questa storia cioè di come fare a proteggere la parte centrale dell'altra parte della Luna perché non venga disturbata non venga inquinata radio e scusate ma ve lo dico perché le cose a me piace dirle chiare se mettete il mio nome Maccone e poi mettete United Nations vi viene fuori la presentazione che io ho fatto in quella occasione perché quello è un documento delle Nazioni Unite ma quello è un documento politico non solo scientifico ora questo accadde nell'anno 2010 voi mi dite ah e allora poi cosa è successo spiace deludervi non è successo un accidente di niente perché perché tutti pensavano ancora alla parte vicina della Luna cioè gli americani tutti quanti e nessuno gliene importava niente dall'altra parte ma qui c'è la sorpresa la Cina ha utilizzato esattamente quello cioè l'altra parte per mettere un piede nella porta ed è scesa giù dall'altra parte allora adesso vi faccio vedere le slide scusate che ho tenuto il titolo lì fermo ma vi ho preparati a queste slide che adesso vedete quindi se volete spegnere per me va bene almeno per queste slide grazie questa è una presentazione che avevo fatto a Pasadena in California al COSPAR che è un congresso ma va benissimo così allora cominciamo a fare una brevissima storia fra il 1750 e il 1950 quindi 200 anni di quella che va sotto il nome di Meccanica Celeste e qui devo citare due personaggi che probabilmente voi avete certamente studiato nei libri insomma di storia della matematica storia della fisica eccetera uno è Joseph Louis Lagrange che per inciso anche se il nome è francese era nato a Torino e se andate a Torino che è la mia città andate in via Lagrange numero 29 e vedete la casa dove Lagrange nacque il 25 gennaio 1736 una curiosità un pochino più in là c'è il monumento a Lagrange e poi accanto a lui in realtà un pochino prima ma dell'ordine di dieci anni c'è il famoso Leonardo Eulero che la sua lingua madre era il tedesco quindi in tedesco si dovrebbe dire Euler in fragere sarebbe Euler comunque insomma questi due signori sapevano benissimo la matematica cioè il calcolo infinitesimale derivate integrali equazioni differenziali e tutte quelle belle cose lì e la meccanica newtoniana ma non sapevano niente di niente del volo spaziale ecco io questo ci tengo a dirlo perché noi che viviamo adesso vediamo cose spaziali ogni giorno che viaggiano di qua e di là non ci rendiamo mica conto di com'era allora cioè parlo di appena 200 anni fa non è che sia poi tanto nel passato quindi loro non avevano la più pallida idea che quello che stavano facendo sarebbe stato l'inizio matematico del calcolo delle orbite spaziali e adesso ve la spiego un po' meglio allora questo diagramma mostra due grandi masse ecco il corsore si vede eh sì allora qui c'è la terra e qui c'è la luna e la luna orbita adesso intorno alla terra su un'orbita che è praticamente un cerchio all'inizio era un ellisse ma come vi ho detto siccome l'orbita di minima energia è un cerchio passando 3,8 miliardi di anni l'orbita è diventata un cerchio va bene e quindi questa R maiuscola è la distanza Terra-Luna che risulta essere 384.000 km cosa hanno fatto quei due signori lì? allora il primo che ha avuto la prima idea è stato Eulero circa 10 anni prima di me il quale ha dimostrato che nel piano dell'orbita della luna intorno alla terra che è il piano bianco ci sono tre punti sulla retta terra-luna che è questa Earth-Moon questa è la retta terra-luna tali che io lo dico con il linguaggio dell'astronautica ma loro volevano di fatto hanno scoperto questo se tu vai a mettere una sonda spaziale in uno di quei tre punti lì questa qui o cade da una parte o cade dall'altra come è ovvio perché se tu vai a mettere una sonda spaziale quello che è una stazione spaziale in L1 che sta fra la terra e la luna e sta molto più vicino alla luna che non alla terra insomma è ovvio che o cade di qua o cade di là e questa roba detto da scienziati si esprime dicendo che l'equilibrio è instabile quindi i tre punti collineari L1 L2 ed L3 sono punti di equilibrio instabile L1 si trova fra terra e luna L2 si trova sopra la luna dall'altra parte ed L3 si trova poco oltre l'orbita della luna da questa parte della terra e naturalmente man mano che la luna si muove l'altro gli va dietro quindi la distanza fra L2 e la luna rimane non è sempre la stessa cosa fondamentale per le cose spaziali perché non cambiando la distanza tu puoi mettere in piedi un sistema di telecomunicazioni che non cambia perché la faccenda cruciale nelle telecomunicazioni ovviamente è la distanza fra le due antenne ci siamo? Bene questo è il teorema di Eulero ed è dell'ordine del 1760 1770 dopodiché Lagrange ha ripreso il discorso e ha dimostrato che oltre quei tre punti lì ce ne erano ancora altri due che vanno sotto il nome di punti triangolari perché sono i vertici L4 è questo e L5 è questo di due triangoli equilateri cioè questo R quello R e quello R quindi gli angoli qui sono di 60 gradi 60 gradi 60 gradi 60 gradi questi sono i due propriamente detti punti di Lagrange e hanno una proprietà meravigliosa cioè che invece di essere instabili come i tre sulla retta Terra Luna questi sono stabili cioè si dimostra con la matematica che se tu vai a considerare una certa zona intorno a L4 grosso modo sarebbe un ellissoide ma non è proprio un ellissoide ecco e se tu metti un satellite dentro quelle ellissoide lì sorprendentemente quello viene attirato da una forza che tu non ti aspetti perché lì non c'è massa ma c'è la forza che lo attira verso il punto capito? questo tradotto nel linguaggio di oggi vuol dire che possiamo mettere due belle grosse stazioni spaziali una in L4 e in una in L5 che per sempre continueranno a girare intorno alla Terra man mano che la Luna gira capito? in particolare i soliti americani hanno subito creato la L5 Society in realtà c'è un piccolo vantaggio di L5 rispetto a L4 ma questo è dovuto ai movimenti che deve fare la stazione spaziale per staccarsi dalla Terra e andare a finire nella zona stabile va bene una cosa sottile di secondo ordine se volete allora gli americani hanno subito creato la L5 Society diretta da Jerry O'Neill di Princeton con l'idea del futuro di andare a mettere lì una bella stazione come Dio comanda tanto rimane lì e nessuno la tocca va bene quindi questo è il teorema di Lagrange generalmente detto che ha messo in chiaro questa situazione prima non lo si sapeva ma allora ci sono altri cinque punti se tu consideri le due masse grandi del Sole questo qui che fa della luce e della Terra quindi quei cinque che ho detto prima sono i cinque punti di Lagrange del sistema Terra-Luna e si trovano tutti e cinque dentro la sfera di attrazione della Terra il Sole non c'entra questi invece sono i cinque punti di Lagrange del sistema Terra-Sole o Sole-Terra e si trovano tutti quanti dentro una sfera di attrazione molto più grande che quella di attrazione del Sole rispetto al resto della Via Lattea cioè di tutto questo sistema che gira intorno al valge centrale della Galassia va bene quindi in conclusione se io mi fermo qui sulla Terra perché la Terra rimane sempre lì quanti punti di Lagrange ho tutto sommato risposta ho i cinque di Terra-Sole più i due vicini di Terra-Luna e cinque più due fa sette quindi in conclusione intorno alla Terra ci sono sette punti di Lagrange che sono la fortuna degli astronauti nel senso che molte missioni spaziali attuali sono state progettate proprio per mettere dei satelliti o quello che sono scientifici o quello che sono in quei punti lì ne cito solo alcuni Herschel Planck probabilmente l'avete sentito nominare è quella che ha misurato l'origine dell'universo cioè la relazione di fondo cosmico di 3 Kelvin che riempie tutto l'universo Gaia che è la splendida missione dell'ESA ed Herschel Planck era pure lei dell'ESA cioè sono due missioni europee non dovete credere che fa sempre tutto la NASA non è vero insomma l'Italia cioè l'Italia scusate l'Europa non ha tanti soldi però non siamo mica degli stupidi insomma quello che possiamo lo facciamo e poi c'è la missione Chang'e 2 cinese e il telescopio James Webb della NASA a partire dal 2020 che poi l'anno prossimo va bene questa è la situazione di alcune importanti poi c'è ancora Soho per esempio che si trova intorno al punto di Lagrange L1 verso il Sole e cos'è? è un osservatorio che guarda il Sole cioè studia la fisica del Sole la storia di Soho è meravigliosa vi dico solo che hanno perso lo spacecraft cioè hanno perso il contatto ma poi siccome è gente che passa la vita per questo l'hanno recuperato magnifico successi di cui il pubblico difficilmente sa il merito ma sono veri successi scusate sono andato in questo va bene uffa facciamo un altro passo avanti questo signore del 1800 diciamo vestito un poco come Napoleone III perché lui viveva nell'era del secondo impero francese si chiama Gilles Antoine Lissajoux e in realtà Lissajoux non si era occupato di orbite quello che lui ha fatto è stato inventare il pendolo doppio cioè invece di avere sempre un pendolo che oscilla in un certo piano lui ha considerato un pendolo che oscilla cioè la traccia del pendolo sul piano che sta sotto va in due dimensioni invece che in una solo e questo si chiama il pendolo doppio di Lissajoux c'è tutta una serie di curve eccetera ma nel linguaggio dell'astronautica di oggi si chiamano orbite di Lissajoux orbite di questo tipo allora questa qui è partita dalla Terra si è fatta tutta una serie di giri con centricità crescente intorno alla Terra poi a un certo punto si svincola va a fare un flyby della Luna cioè gli passa di fianco per ovviamente sfruttare la gravità il famoso effetto fionda eccetera e la Luna lo spara in fuori finché questo va a posizionarsi intorno al Lagrangiano L2 di Terra Luna cioè quello che sta dall'altra parte e questo è lo stesso discorso ma nel piano perpendicolare ah no scusate L2 di Terra Sole scusate che è 1,5 milioni di chilometri pardon non di Terra Luna di Terra Sole e questo è un successo grosso perché vuol dire che voi potete risparmiare carburante perché la sonda va dove la gravità la manda e cioè segue i teoremi di Euler e di Lagrange quindi se questi non avessero fatto una matematica con i baffi queste missioni spaziali non esisteretero bene adesso torniamo al discorso della Luna che avevo iniziato prima cioè bisogna proteggere in qualche modo il fatto che l'altra faccia è un paradiso terrestre per i radioastronomi perché il pattume radio che arriva dalla Terra viene bloccato dalla sfera della Luna questo discorso in realtà è incominciato nell'anno 1974 da parte dell'International Telecommunication Union ITU il quale è l'organo mondiale preposto a decidere quali sono le frequenze che possono essere utilizzate dagli scienziati per ricerca scientifica e quali invece sono le frequenze che anche gli altri possono utilizzare ovviamente diciamo inquinandole perché le usano per altre trasmissioni e quindi non possono più essere utilizzate dagli scienziati tra l'altro la sede dell'ITU è a Ginevra non ci sono mai andato ma prima o poi mi tolgo lo sfizio di andarci allora per farla breve nel 1974 l'ITU pubblica questa raccomandazione adesso ve la taglio corto ma il discorso è questo se qui c'è la Terra e se intorno alla Terra c'è un satellite che emette onde radio per esempio il satellite per telecomunicazione ha un'orbita di altezza cento cento aspetta un attimo ecco centomila chilometri rispetto al centro della Terra allora le onde radio emesse da questo signore si propagano in linea retta quando vanno a lambire la sfera della Luna proseguono dopo finché vanno a convergere in un certo punto che diciamo il fuoco ma per via della sfera che è piena qua c'è tutta una zona di spazio che è un cono che è il cono silenzioso d'accordo rispetto a quelle trasmissioni lì allora l'ITU ha detto questa è la legge se l'orbita intorno alla Terra è centomila chilometri allora quella zona l'ha lambita ma non toccata dalle onde elettromagnetiche va lasciata stare in pace per gli scienziati ottima idea ma troppo impolitica cioè impolitica vuol dire non politica perché perché la luna fa gola a molti e gli scienziati sono i poveracci della comunità umana cioè gli scienziati vivono proprio delle mosine non voglio dire di più perché sennò mi do la zappa sui piedi mentre gli altri invece soprattutto i costruttori di satelliti per telecomunicare quelli i soldi li hanno e come allora la conclusione è che scusatemi diciamolo brutalmente la ITU può anche scrivere il regolamento S22 ma in realtà scusate chi se ne frega questo è il discorso pratico va bene questo signore è Jean Eidman il mio maestro di queste cose a Medon era nato Medon è l'osservatorio di Parigi nato nel 23 e morto nel 2000 come vi ho detto e qui c'è una sequenza di eventi che vi ho detto prima cioè nel 94 Jean Eidman propone l'osservatorio SETI nel cratere SA ma mi spiace dirlo perché sembra che io dia contro il mio maestro ma non l'ha scelto bene ma d'altra parte sai quando fai la scienza non è che fai tutto giusto fin dal primo momento questo cratere SA non va bene per tutta una serie di motivi che non sto a spiegare poi nel 94 eccetera la cosa va avanti l'Accademia di Astronautica IEA International Academy of Astronautics approva il Cosmic Study eccetera finché arriviamo nel 2000 dove il povero Eidman muore e io prendo il suo posto poi c'è stato un meeting al JPL il JPL è il centro di ricerca della NASA a Pasadena no? scritto Pasadena quindi sui giornali voi leggete Pasadena ma là si dice Pasadena eccetera eccetera andiamo avanti finché si pubblica uno studio nella rivista Acta Astronautica e questi sono i dettagli scusa uffa scusa ecco tutto questo ha portato alla luce il fatto che c'è comunque un cono silenzioso quindi potremmo anche sperare di utilizzarlo mandando un satellite scientifico intorno alla luna e quando questo satellite si trova nel cono silenzioso naturalmente non è disturbato da tutto quello che arriva dalla Terra ma la questione è che dura poco perché dipende dall'orbita che tu fai e quindi va bene è meglio di niente ma non ci basta mettiamolo così qui ci sono i calcoli ma ve li risparmi e adesso scusate ma ci sono i allora questa era la situazione quando vado a parlare alle Nazioni Unite e questo sono io se riuscite a leggere questa roba qui c'è scritto IAA cioè International Academy of Astronautics e quello è il seggio della IAA come Ngo Non Governmental Organization come quelle che cercano di salvare quei disgraziati nel Mediterraneo sono tutte Ngo e questo ha un seggio come Ngo nel COPOS che è il Comitato delle Nazioni Unite che si occupa di queste cose e va bene e cos'è che ho proposto questo è il succo di tutta la storia allora io ho proposto quanto segue questo tutto questo è la faccia lontana della Luna non ditemi oscura far side la faccia dall'altra parte allora io ho proposto che se considerate i due paralleli questo che è più 30 gradi cioè è una latitudine no? col centro nel centro della Luna più 30 gradi e l'altro che è sotto è meno 30 gradi e poi considerate il cerchio tangente a questi due paralleli col centro nell'antipode cioè nel punto che sta esattamente opposto alla Terra dall'altra parte allora io ho chiesto che questa zona nel cerchio a cui ho dovuto dare un nome perché quando tu parli con un politico non devi andare a dire le equazioni quello ti butta fuori tu gli devi spiegare un confine ecco ma lei che cosa vuole io voglio che quella zona che sta nel cerchio non veniate a romperci le scatole detto brutalmente ma questo è il linguaggio che certe volte bisogna usare per farci capire quindi io ho chiesto che questa zona qui venga lasciata in pace che venga dichiarata una zona di importanza scientifica per tutto il mondo eh occhio non sto tenendo dalla parte degli americani o dei cinesi o di chissà chi per tutto il mondo in modo che chiunque voglia andare a fare delle ricerche di radioastronomia spinta va a mettersi lì meglio che mai nel centro e sente il cielo come prima che Marconi cominciasse a fare gli esperimenti è un bel è un bel spazio di 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 quanto è sulla superficie duemila insomma è un una bella fetta basta adesso questo è lo stesso discorso ma visto da sopra quindi questa è la luna il cerchio è la luna da questa parte c'è la terra dall'altra parte c'è sull'asse terra luna la retta che prosegue fino al punto di Lagrange alle due no ve l'ho detto allora perché io ho scelto questo perché supponendo che nel futuro fra 50 anni 100 anni mille anni non lo so ci siano due stazioni spaziali nel punti L4 ed L5 come suggerito dagli americani allora la radiazione emessa da quelle due stazioni spaziali che sono nei punti di Lagrange e L4 cioè questo angolo qui è di 60 e questo angolo qui è di 60 questa radiazione viene giù rettilinea così va a picchiare su questa parte della luna ma non fra 150 di longitudine est e 150 di longitudine ove cioè c'è uno spicchio sferico si dice compreso fra il polo nord e il polo sud che sottende un arc un angolo al centro di 30 più 30 che fa 60 che è protetto da future radiazioni emesse da future stazioni spaziali in quei due punti chiara la motivazione scientifica questo io ho proposto alle Nazioni Unite in particolare praticamente quasi al centro cioè quasi al punto centrale di quel cerchio lì che è l'antipode c'è un bel craterone che si chiama cratere Dedalus e io ho proposto che questo cratere sia il luogo dove nel futuro verrà creato un osservatorio astronomico ovviamente per l'astronomia nel visibile lì è pacifico ma anche per il radio perché questo è il posto più protetto è ovvio che il posto più protetto sta esattamente al centro dall'altra parte questo cratere ha dei meriti perché è grande è largo circa 80 chilometri e questo vuol dire dai scienziati che in futuro noi possiamo mettere non solo un radiotelescopio ma addirittura due o più e con questi fare l'interferometria la quale ti dà una risoluzione sulle immagini radio che è spettacolare chiaro? quindi è bello grande ed è bello utile per quello ma c'è ancora un altro vantaggio intorno c'è questo muro che è alto circa 3 chilometri rispetto al fondo del cratere benissimo questo impedisce alle onde radio che vengono dallo spazio e che picchiano sulla luna intorno ma fuori del cratere di entrare dentro il cratere perché c'è questa parete che protegge capisci? quindi questo è il paradiso non terrestre il paradiso lunare per il futuro della radiosonomia e io l'ho detto vi do un particolare dunque io avevo proposto questa roba come vi ho detto nel 2010 subito sono arrivati i francesi e mi hanno chiesto ma lei viene a farci una conferenza sì mi hanno pagato un pranzo non crediate che mi abbiamo pagato chissà che cosa mi hanno pagato un buon pranzo a Parigi e io gli ho raccontato tutta la rava la fava nel giro di un anno loro avevano già la missione spaziale progettata e questa era le ADS Astrium che è una grande compagnia francese di cose spaziali cioè loro hanno già fatto tutto il progetto parto dalla terra scendo giù nel cratere Daedalus e calo nel cratere un in inglese si dice phased array cioè vuol dire questo scusate ma devo posare il microfono un attimo vuol dire questo questo space crat scende giù nel cratere e poi si apre come un libro no oppla tutti i piani eh piani oppla così 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 insomma alla fine ti viene fuori un bel piano largo piano niente paraboloide perché paraboloide è difficile poi poi il fuoco dipende insomma ci sono casini sulle frequenze piano e cosa c'è lì? Eh ci sono una valanga di dipoli elettrici perpendicolari al piano e un bel computer che maneggia questi dipoli cioè le frequenze di dipoli in modo tale che tu riesci a orientare il fascio nella direzione che vuoi tu cioè capti quelle che arrivano di lì poi capti quelle che arrivano di là capti quelle che arrivano di lù eccetera eccetera questa roba detto da scienziati si chiama beamforming cioè la formazione di un fascio ma in realtà sono più fasci contemporanei artificiali grazie al computer che manovra sulle frequente dei dipoli chiaro? In Italia uno dei massimi esperti di questa faccenda è l'ingegner Steglio Montebugno carissimo amico che lavora ai radiotelescopi di medicina siamo tutti e due della classe 1948 quindi io ho 71 anni Steglio ho 71 anni ma io e Steglio siamo due fratelli lasciatemelo dire chiaro e tondo perché sono 40 anni che andiamo d'accordo a fare queste cose io per la parte matematica e lui per la parte ingegneristica va bene poi c'è la questione di quanto si attenua un segnale radio dovuto a questa scarmatura della luna adesso taglio corto comunque il discorso dell'attenuazione cioè di quanto si abbassa il disturbo si esprime in decibel il decibel di B è una misura logaritmica quindi qui stiamo parlando di ordini di grandezza non è una misura lineare è logaritmica e allora ci sono 72 ordini di grandezza se la sorgente è in orbita geostazionaria e poi a seconda delle frequenze vengono fuori insomma per chi capisce queste cose c'è un abbattimento quasi totale del rumore terrestre che era quello che vogliamo meglio ancora questo è lo stesso discorso ancora più preciso su alcune righe spettrali di particolare importanza per la radioastronomia il metanolo la formaldeide il vapore d'acqua eccetera eccetera va bene tutto questo va benissimo perché è scienza è astrofisica quindi non puoi discutere questo ma arriva la politica è quella la grana perché come vi ho detto dopo questa mia presentazione nel 2010 alle Nazioni Unite arrivano soprattutto i cinesi i quali non hanno detto niente a nessuno ma hanno fatto i fatti e quindi negli anni fra il 2010 10 e il 2018 che era poi l'anno scorso hanno primo creato un satellite per telecomunicazioni che sono andati a mettere nella grangiano L2 che sta sopra l'altra faccia della luna questo gli occidentali non l'avevano mai fatto e neanche i russi quindi già solo quello è un passo avanti che loro hanno fatto e che noi non siamo in grado di farlo capoprimo secondo questo è avvenuto del satellite che poi si chiama in cinese si chiama Qiqiao me l'hanno detto loro io non so se lo dico bene o male ma insomma loro lo chiamano così scritto Qiqiao poi questo è avvenuto nel marzo dell'anno scorso 2018 ma successivamente cioè fra il dicembre dell'anno scorso e il gennaio di quest'anno hanno fatto scendere la vera sonda cioè la Chang'e 4 la quale è andata a scendere sull'altra faccia della luna nel cosiddetto cratere von Karman questo vuol dire esplorazione e poi c'è il Yutu il roverino che gira di qua gira di là quindi praticamente questi qua stanno esplorando l'altra faccia tanto di cappello eh sì tanto di cappello ma mica tutti sono contenti perché gli americani l'hanno presa molto male e lasciatemelo dire era ora che si svegliassero non voglio fare il cinico sono anch'io uno del mondo occidentale però era ora cioè bisognava che arrivassero i cinesi dall'altra parte per far capire agli americani che è ora che si sveglino e quindi il futuro della luna è più che mai incerto eh per giunta non basta in realtà è successa una storia di questo è quasi una storia da 007 di spionaggio perché siamo a quei livelli lì ormai allora io ve la racconto come me l'hanno raccontata quindi non mi date delle colpe se non è poi corretta ma insomma la storia era questa che il re d'Olanda l'Olanda è un piccolo re doveva andare a fare una visita di stato in Cina questo signore è un bravo giocatore di baseball ma ovviamente non è che se ne intenda molto di queste cose ma dietro di lui c'erano invece i radioastronomi olandesi che sono bravissimi guardate ho passato varie volte delle settimane a Dwingelo che sono i radiotelescopi che gli olandesi hanno su quasi al confine con la Germania non è a Amsterdam è una zona diciamo poco disturbata dal punto di vista e questi radioastronomi hanno detto al re Setti mentre vai lì cerca di filarti scusate i cinesi noi ti facciamo con le spese con i soldi dell'ESAT cioè dell'Agenzia Spaziale Europea noi ti facciamo un aggeggio che si chiama NCLE Netherlands China Low Frequency Explorer cioè l'esploratore olando-cinese sulle basse frequenze poi lo andiamo a mettere sul satellite che c'è che sta nella Grangiano L2 e lì facciamo un esperimento allora adesso ci provo a spiegarvi cos'è questa roba e perché hanno deciso di farla qui andiamo in un campo completamente diverso che è la cosmologia la cosmologia studia l'espansione dell'universo dal Big Bang fino ad oggi ora circa 400.000 anni dopo il Big Bang si crea l'idrogeno cioè prima non c'era nemmeno l'idrogeno l'idrogeno è l'atomo più semplice che ci sia cioè protone ed elettrone ma prima di 400.000 anni dopo il Big Bang c'era un tale casino si chiama un plasma vabbè era un miscuglio put purri dopo 400.000 anni la temperatura scende e quando arriva 400.000 anni vanno bene le condizioni perché l'idrogeno si formi e quindi ci sono i primi atomi di idrogeno vabbè allora gli atomi di idrogeno si sono conservati tali da allora fino adesso cioè non è che l'idrogeno abbia cambiato le orbite c'è sempre il nucleo che è fatto dal protone con il bravo elettrone che gli gira intorno punto e basta l'orbita è sempre la stessa detto così e noi sappiamo che l'atomo di idrogeno subisce una transizione di spin allora potete accendere la luce un attimo per cortesia ve lo dico perché questo poi c'entra anche nel set quindi poco per volta ecco grazie a molti di Dio allora supponiamo che questa penna qui dell'argente sia il protone dell'atomo e supponiamo che questa che è una volgarissima Biro sia l'elettrone quindi l'elettrone detto alla facile poi non è così ma insomma detto alla facile gira intorno al protone esattamente su un'orbita circolare questo è l'atomo di Bohr che è il modello più semplice allora la realtà è che ciascuno dei due poi gira su se stesso quindi questo qui gira su se stesso in questo modo qua e l'altro gira su se stesso in questo modo qua ma si mantengono sempre paralleli adesso non mi venite a chiedere perché non vanno sgambi perché la meccanica quantistica è fatta così punto e basta allora nella configurazione di minima energia che ancora una volta è l'eldorado perché l'energia decade per attriti balle varie ma alla fine non può scendere sotto quel limite lì nella configurazione di minima energia questi due spin sono antiparalleli cioè uno punta in alto è un vettore ovviamente che è il vettore velocità angolare e l'altro punta in basso d'accordo e in meccanica quantistica si dà il valore di spin uguale a un mezzo per convenzione va bene questa è la configurazione di minima energia solo che tutti gli atomi di idrogeno dell'universo non è che siano soli ma si trovano immersi in un bagno di radiazione di tutti i generi che deriva dalle stelle dalle galassie da tutto quello che volete allora c'è un bellissimo capitolo della fisica teorica che si chiama la teoria dei coefficienti di Einstein perché la scoperta e ti dice che un atomo di idrogeno immerso in un bagno di radiazione ha una probabilità non zero quindi vera piccola ma di opla fare una transizione di spin capitolo il discorso passo da così che è quella di minima energia a così che non è più la minima energia se faccio così assorbo un fotone se invece passo da quella così a così cioè ritorno giù cedo un fotone va bene questa è meccanica quantistica ora lasciate che vi spieghi le circostanze umane di questa scoperta perché anche l'aspetto umano conta non è che i fisici siano avulsi dalla realtà questa è una cretinata degli umanisti i fisici vivono purtroppo e questi tempi furono gli orribili tempi della seconda guerra mondiale quando l'Olanda era sotto l'occupazione nazista mi commuovo scusate sono uno stupido ma c'era un giovane Van de Hulst che aveva bisogno di fare la tesi di laurea anche nel dicembre del 44 allora va dal professor Oort quello della nube di Oort che era il direttore dell'osservatorio di Leida in italiano e gli dice professore mi dà una tesi e lui dice senti ma in questa situazione con i nazisti eccetera eccetera io di tesi sperimentali non te ne posso dare cioè di tesi osservative ti do solo una tesi di matematica se ti va va bene prova a calcolare tu qual è la frequenza del fotone assorbito o emesso quando avviene la transizione di spin ce l'ha fatta e ha scoperto che la transizione di spin del protone che quindi non è un'ionizzazione occhio perché l'ionizzazione vuol dire che l'elettrone salta da un'orbita più piccola all'orbita no è proprio soltanto quella dello spin basta allora il fotone assorbito o emesso ha una frequenza di 1420 megahertz cioè 1,420 erotti gigahertz ma questo avviene su tutti gli atomi di idrogeno e siccome l'atomo di idrogeno è il più importante dell'universo perché è il primo nella tabella di Mendeleev e cioè in ordine di tempo è stato il primo ad essere creato alle origini dell'universo dicevo 400 mila anni dopo il Big Bang è chiaro che di quella raggiazione lì ce ne dovrebbe essere tanta 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 perché tutti emettono e assorbono finita la guerra per inciso devo essere sincero la stessa scoperta è fatta negli stessi anni da un grande astrofisico sovietico josev shlovski dell'università di mosca allora finita la guerra gli americani dicono ah sì allora facciamo la prova per vedere se è giusto e l'han trovata quindi la radiazione che va sotto il nome noi la chiamiamo la riga dell'idrogeno perché è una riga molto stretta è intorno a 1420 megazzo 1.420 giga quella è la radiazione più importante di tutto l'universo a questo punto due meravigliose scoperte la prima scoperta è questa gli olandesi che si sono ripresi in mano questo tesoro che avevano scoperto hanno usato una storica antenna che esiste tuttora ad Vingelo visto con gli occhi di oggi è banale un'antenna da 25 metri ma è storica perché loro hanno usato questa antenna per setacciare tutto il cielo visibile dall'Olanda e cosa hanno trovato hanno trovato che nella galassia voi sapete che noi siamo in una galassia i bracci di spirale sono caratterizzati da un'intensità molto più elevata e lo credo con tutti gli atomi di idrogeno che ci sono lì mentre invece fuori dai bracci la densità è molto meno elevata ma questo vuol dire mappare la galassia cioè la prima mappa geografica della galassia è stata fatta diciamo dopo il 1950 soprattutto degli olandesi dimostrando in modo non non oppugnabile che noi ci troviamo dentro una galassia spirale che è la Via Lattea e ci sono due bracci uno verso il centro della galassia che si chiama il braccio del Sagittario e l'altro dalla parte opposta che si chiama il braccio di Perseo d'accordo? una scoperta epocale una dimostrazione fuori di ogni discussione prima gli astronomi l'avevano già capito ma si erano basati sugli ammassi globulari che si muovono come veramente è cioè che noi non siamo nel centro della galassia ma siamo spostati siamo circa metà strada fra il centro e il bordo va bene allora questa è la prima grande scoperta ma ce n'è un'altra ancora più bella noi finalmente abbiamo capito questa benedetta radiazione della riga dell'idrogeno ma allora l'hanno capito tutti gli astronomi alieni cioè se ci sono delle altre civiltà extraterrestri anche solo nella nostra galassia poi dopo andiamo a estendere il discorso alle altre galassie ma cominciamo a guardare a casa nostra che è la via latina questi per forza di cose devono sapere che esiste la radiazione della riga dell'idrogeno perché è la cosa numero uno allora se vogliamo cercare dei segnali emessi da quei signori là invece di andare scusate scherzo di andare a sintonizzare su radio tradate 425 io vado a sintonizzarmi sulla riga dell'idrogeno scusa non sono un cretino perché quella lì è la più importante di tutte e quindi tutte le più importanti ricerche seti search for extraterrestrial intelligence a partire dagli anni 60 e questo ve lo dirò nella prossima presentazione sono state fatte principalmente sulla riga dell'idrogeno poi se uno vuole può anche andare a farle su altre righe ma quella è quella su cui noi potete anche dire ci illudiamo insultateci pure che ci arrivi un segnale extraterrestre capito l'origine del seti va bene adesso finiamo su questo allora questi astronomi olandesi che sono tutt'altro che stupidi sono i migliori del mondo o perlomeno i migliori in Europa va dai non voglio mancare di rispetto ai dei americani ma questi non sono fatto hanno detto al re senti fammi sto piacere mentre vai là in Cina chiede a sti cinesi di lasciarci mettere questo aggeggio sul satellite Khechao cioè quello che va nel Lagrangiano e le due di Terra Luna d'accordo? allora questo aggeggio è fatto da tre lasciatemi usare la parola baffi vi ricordate gli anziani si ricordano certamente che sopra il televisore c'erano erano solo due qui invece sono tre ma qual è il succo del discorso? questi qui sono dei baffi lunghi cinque metri quindi non stanno sul televisore di casa nostra ma qual è il succo del discorso? è che se tu hai un'antenna lunga così c'è un baffo tu vai a beccare onde lunghe cioè di bassa frequenza allora perché questo aggeggio è fatto in quel modo lì? perché la riga famosa dell'idrogeno che 400.000 anni dopo il Big Bang era a 1420 MHz si è abbassata enormemente in frequenza perché l'universo si è espanso capito? cioè qui ci sono 14 miliardi di anni di espansione dell'universo dentro per cui adesso la stessa riga calcolata mi porta a cercarla nelle basse frequenze e questo era già stato cercato anche prima che i cinesi andassero a mettere il satellite dall'altra parte ma mai nessuno aveva trovato niente perché l'intensità da cercare è talmente debole che nessuno riesceva a beccarla invece sulla faccia dall'altra parte si può sperare che la luna schermi abbastanza pattume radio che arrivi dalla Terra in modo da poterla scoprire capito il discorso questo esperimento is ongoing cioè in questo momento sta per ora non hanno comunicato niente in realtà ci sono altre grane ne dico solo una che è tremenda in realtà Kekiao insomma Kekiao questo signore qui che ha lo strumento volandese non è dentro il cono d'ombra è vero che gira intorno alla Grangiano ma in un piano perpendicolare ma è fuori del cono d'ombra perché se no non trasmette quei cinesi è grave quindi guarda io ho parlato con insomma gli olandesi dai Mike Garrett eccetera che voi conoscete probabilmente no tu l'hai conosciuto eccetera quando vado a dire che probabilmente i cinesi riusciranno gli olandesi quello mi fa una bella risata come dire senti non sparare stupidaggini noi ci abbiamo provato perché nel campo scientifico tentare non nuoci no però temiamo di non farcela quindi qui c'è tutta la descrizione appunto il principal investigator è un tedesco di nome Heino Falke che è un grandissimo astronomo perché ha studiato con molta precisione il buco nero che c'è nel centro della galassia cioè Sgr Sagittarius A asterisco che è un buco nero come si deve perché la massa di quell'aggeggio lì è come se noi prendessimo 4 milioni di soli li mettessimo tutti assieme e quella diventa la massa del buco nero che c'è nel centro della galassia hai voglia ma ce ne sono di peggio per esempio dai qui la astronomia la sapete per esempio la galassia M87 dai la sapete no è quella del getto ecco quella galassia lì è molto importante tra l'altro è stata scoperta si ricorda giusto nel 911 perché perché sto getto li aveva lasciati già tutti allibiti nel 911 ma da dove sbuca fuori sto getto così enorme che spunta fuori di un'enorme galassia ellittica quella non è una galassia sperica risposta perché lì c'è un buco nero spaventoso e la massa di quel buco nero lì al centro di M87 è 6 miliardi di soli altro che 4 milioni è spaventoso e voi mi dite ma come mai qui c'è c'è sto mostro risposta perché quella galassia lì non è una galassia come le altre quella galassia lì è il centro del super ammasso di galassie a cui apparteniamo anche noi cioè miliardi di anni fa quando tutto ha incominciato ad espandersi c'era M87 con il super black hole al centro poi c'erano tante galassiette che poi si sono evolute compresa noi e Andromeda quindi noi Andromeda facciamo il gruppo locale addirittura ridere perché poi Andromeda ha i 2,5 milioni di anni luce però Andromeda è molto speciale perché in realtà si avvicina a noi e allora adesso vi do questa terribile notizia angosciosa che fra appena 3 miliardi di anni ci viene addosso e la mia risposta è e chi se ne frega perché non sappiamo nemmeno se ci saremo cosa sarà la terra fra 3 miliardi di anni cosa vuoi come fai ad andare a prevedere non puoi o scrivi fantascienza ma se sei uno scienziato non puoi andare a prevedere comunque Andromeda è un caso speciale perché si avvicina a noi cioè è legata gravitazionalmente alla via Lattea ma tutte le altre formano l'ammasso locale e il centro del super ammasso è M81 va bene questa era rispettabile astronomia e astrofisica e adesso scendiamo giù nella bolgia della politica che schifo scusate spero che non ci siano dei politici perché poi qui mi tagliano i fondi per tutto il resto della vita allora qui adesso andiamo a toccare il discorso della politica perché è chiaro che tutti i paesi che hanno capacità spaziali vogliono mettere le zampe sulla luna ma sono tanti allora ovviamente ci sono gli Stati Uniti va bene poi c'è la Cina che in realtà ha già messo i piedi dall'altra parte e poi c'è la Russia l'Europa il Giappone l'India l'Australia Israele adesso insomma ci sono tanti tanti paesi vari che adesso c'è la corsa alla luna quindi io sinceramente non so cosa succederà però mi sento molto isolato e questo lo dico con spudoratezza nel senso che li ho tutti contro perché in questi consessi internazionali io sono quel povero vi lascio l'insulto che chiede di salvare un piccolo angolino dall'altra parte della luna per l'astronomia per la scienza per gli insetti per quello che volete voi ma non per fare soldi e invece gli altri vogliono fare soldi per cui c'è la Moon Village Association che anche io sono membro della Moon Village Association quindi mi sto dando la zappa sui piedi da so comunque secondo me detto brutalmente quelli sono i palazzinari loro vogliono farsi un fracco di soldi costruendo lì facciamo l'ospedale là facciamo insomma tutto quello che volete voi ma questo va bene non voglio dire che non bisogna farlo ma io chiedo soltanto che non vengano a rompere le scatole ai poveri scienziati quindi è una battaglia persa me l'hanno detto più di uno e questa settimana che ho passato a Washington lo dico con chiarezza è stata una settimana dura per me cioè intensa è vero che ho conosciuto molta gente che segretamente mi dicono sì ma noi abbiamo capito che tu hai ragione ma non posso aiutarti perché sai le autorità politiche tutto detto chiaro il discorso va bene peggio io l'ho proprio messo in maniera plateale vi chiedo scusa we have money and pollute as we please sì signore cioè noi i soldi li abbiamo e loro li hanno veramente questi qua siamo noi miserabili e inquiniamo come cavolo ci pare allora la conclusione sta nel fare dei congressi dove si cerca di arrivare a un accordo cioè l'unica soluzione è fare un negoziato c'è poco da fare una cosa io ho imparato in America che in life you don't get what you deserve you get what you negotiate nella vita tu non ottieni quello che meriti che è quello che tutti noi vorremmo tu ottieni quello che negozi e questo è proprio quello che sto cercando di fare anche con l'appoggio di persone rispettabili ad esempio Joseph Hill che è un grande cosmologo e quindi vi do una bella notizia che la famosa Royal Society il massimo organo di prestigio britannico da Newton in poi la Royal Society è stato il tempio degli scienziati migliori ha deciso di fare un congresso a Londra la Royal Society il 16 17 marzo no 17-18 marzo e io mi sono già iscritto poi che cosa verrà fuori ve lo dico dopo mi invitate mi pagate un'altra cena e vediamo e questa è la storia allora questa era la prima parte della faccenda che è quella che riguarda la luce il caro Cesare mi ha cortesemente fatto capire che adesso vi devo lasciare insomma un breve riposo per non dire altre cose e mi fermo qui e la seconda parte sarà poi invece il seti iscriviti al canale